Se non arriveranno i soldi necessari per evitare il fallimento, potrebbe saltare il voto, già fissato per domenica 30 giugno. E' questa l'ultima arma impugnata in Sicilia dall'ex provincia, liberi consorsi dei comuni. La situazione è drammatica, la tagliola fatta a scattare dal governo Monti, attraverso il prelevo forzosa condannato gli enti intermedi ad una vita di stentine ed ambienze. Da una parte ci sono funzioni da esercitare, competenze da far valere, servizi e prestazioni da assicurare, ma dall'altra non ci sono i soldi. E così il rosso di bilancio è diventato una necessità ineluttabile che nessun mago della finanza potrebbe modificare. Quasi tutte le ex province non hanno potuto approvare i bilanci e sono in dissesto. Ora, dopo appelli ed SOS lanciati inutilmente, sindaci e consiglieri comunali, chiamate a dare i nuovi vertici agli enti dopo oltre sei anni di gestione commissariale, mettono in discussione questo passaggio, nel tentativo di fare pressione presso il governo nazionale. Le richieste sono state chiarite da Leo Luca Orlando, presidente del lancio Sicilia. Per la parte giuridica chiediamo al governo nazionale che venga eliminata la triennalità del bilancio in caso di mancata approvazione per il 2018 e qualora fosse necessario anche per il 2017. La possibilità di poter utilizzare gli avanzi di amministrazione e l'opportunità di fare impegni di spesa per investimenti anche senza bilancio approvato, purché si tratti di investimenti finalizzati.